Il freddo è tornato a bussare alle porte della Puglia e si è fatto sentire, tutta colpa di un nucleo d'era fredda proveniente dal nord Europa. Nelle ultime ore la colonina di Mercurio è scesa bruscamente e calerà ancora nei prossimi giorni, in coincidenza con i giorni della Merla, i più freddi dell'anno, con le minime che andranno sotto lo zero. Sulle zone culinari non si escludono precipitazioni anche nevose. A Bari e nei comuni limitrofi oggi sono previsti abbondanti piogge, mentre domani gli esperti prevedono cielo senza nuvole. Allerta sull'area murgiana invece, dove a quote di 300-500 metri sono attese in moderate nevicate. La protezione civile ha diffuso un decalogo con le raccomandazioni in caso di neve gelate. Il primo consiglio è procurarsi l'attrezzatura necessaria per spalare la neve nei viali e fare la scorta di sale industriale, montare sulla propria auto pneumatici da neve, controllare che ci sia il liquido antigelo nel radiatore, verificare lo stato della batteria e l'efficienza delle spazzole dei terci cristalli. La protezione civile inoltre raccomanda di liberare l'auto dagli strati di neve prima di mettersi in viaggio e di tenere sempre accese le luci per essere più visibili. Sulle strade innevate mantenere una velocità ridotta usando marce basse per limitare le frenate e aumentare la distanza di sicurezza dal velicolo che precede. In salita si suggerisce di procedere senza mai arrestarsi perché una volta fermi è sempre più difficile partire. Grande attenzione si deve prestare anche ai lastroni di neve che soprattutto nella fase di disgelo potrebbero staccarsi dai tetti. Anche i pedoni dovrebbero fare attenzione alle formazioni di ghiaccio sui marciapiedi che potrebbero causare pericolose scivolate. Anche i pedoni dovrebbero fare originatori profili. Anche i pedoni dovrebbero fare baba. Anche i pedoni dovrebbero fare e che tutto quello che falle in specchio d'iscrizione al 누vez habitats smoltante. Grazie a tutti.